Buongiorno a tutti, sono Nadia Dresti, head of Locarno Pro. Locarno Pro è una nuova ventura di Open Door e Industri Days. Tutte le attività di industria che si tratta in Locarno sono sotto il nome Locarno Pro. Locarno Pro raggruppa tutte le attività legate all'industria, quindi Open Door, Industri Days e tutte le altre attività diverse. Oggi abbiamo avuto un incontro di presentazione di coproduzione tra il Portogallo, la Svizzera e il Messico, visto che ci sono degli accordi di coproduzione. Locarno Pro è proprio invitare i produttori svizzeri, i produttori portoghesi, i produttori messicani per dare loro i mezzi per capire come possono coprodurre meglio e questo dibattito sulleva anche molte altre domande in merito alla distribuzione, alla visibilità di questi film prodotti o coprodotti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'idea in fondo è solo stata di permettere a questi produttori presenti a Locarno di avere ancora più opportunità per capire come lavorare meglio sia. Grazie per la visione!